Che il numero è? Aspetta che vengo a vedere Mi sto perdendo, dove sono? 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sono tipo 14 cifre E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef E che se giochiamo a Roblo E oggi, miei cari consulini, siamo Ho sbattuto il ginocchio E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Stef E oggi, miei cari consulini, siamo nel Tecune del futuro Perché, ovvero, giocheremo a Future Tecune Guardate l'ambientazione, dezooma un pochettino Guarda dove siamo Quindi mi vuoi dire che mi dici cosa succederà nel mio futuro? Sì Dimmi Esploderai Ti piace come predizione? No, assolutamente no E vabbè, non è che puoi pretendere solo cose belle Fai vedere dove siamo Non riesco a colpirti Ma fa schifo questa arma Allora, mi stai facendo arrabbiare Ma chi l'ha creata? Pronti a iniziare il nostro Tecune Allora, vieni qua, vieni qua Arrivo Ho per te un lavoro proprio del futuro No Guarda questo bel bottone Allora, questo è un lavoro antico Ok? È un lavoro antico quindi non mi sta bene Guarda No, dai, non ne ho voglia Dai, su No Guarda cosa faccio per te, ok? Mmh Se clicchi, ne fai due Io non li vedo uscire Neanch'io, quindi No Li puoi cliccare solo tu, vero? Sì E questo è questo Perfetto Così iniziamo subito la nostra produzione Sì, dovrebbe essere uno di quei Tecune ragazzi Che va davvero alla velocità della luce E non so Come nel futuro Credo sia particolare Perché ho letto che ci sono 110 bottoni 110? 110 110 Tonti Sì, mi sa di sì Tondi Tondi Tonti Tonti ho detto Sono dei bottoni tonti, poverini Eh, un pochino Dai, ci può stare Ci può stare Ma che ci può stare? Allora Voglio vedere dall'altra parte i muri Ma siccome costa 50 Mi aspetta già un muro per cricetti Ok Ah no Invece no Un bel muro alto Come piacciono a te, guarda Sempre più grande Guarda Ui, belli questi Guarda ancora Eh, vabbè, vabbè Non ne abbiamo neanche bisogno Almeno adesso siamo protetti E poi questo che cos'è? Material Ah Ah, ok Sdoppi i materiali Quindi almeno ne avremo di più Aumentiamo ancora di più Guarda com'è veloce questa produzione ragazzi La produzione quindi bellissima Ci entriamo? Sì, sì Sì, entriamo Facciamo anche noi Pronta? Vai, vai Uuuu Abbate la testa in tutti i robbi Bellino Bellissimo Bellissimo Ho notato che qua però ci sono i buy mega mega iron mine 15 milioni Eh, vabbè Ma mega Quanti mega ci sono? Troppi Troppi mega per essere contati No, vabbè Guarda quanti soldi abbiamo fatto Ma questo è un sogno È un sogno sto take one Non l'abbiamo Il take one del futuro Ma hai visto così tanti soldi Il take one del futuro Che va velocissimo Vedi Ha senso Esatto Ha senso Allora Quindi io voglio comprare Compriamo il mega copper mine Guarda che cosa gigantesca Oh, vabbè, vabbè Ma che bello È tutto basato sulla produzione Hai notato? Sì È molto basato proprio sulla produzione Cosa hai preso? Non lo so Abbiamo migliorato questo Quattro Quindi se io sto qua a premere Guarda quanti ne cadono Sì, vabbè Ma quanti sono? Aspetta, devo farlo E già facciamo tantissimi soldi così Figurati se premi Ah, velocissimo Premo velocissimo il battone Perché non lo puoi premere tu? Perché c'è giustizia nel mondo Ecco perché Questa non è giustizia Allora Quanto ci siamo fatti Alri 200.000 Cosa vuoi comprare? Dimmi cosa vorresti Allora, allora Io voglio E stai comprando cose per i cavoli tuoi Voglio Fammi vedere cosa c'è Sì La questa Recovery Station Non so cosa sia Voglio vedere che cos'è Ah, ok Perché tu lotti E poi penso che qua ti recuperi la vita No, vabbè Io non ci credo 2 milioni Eh, vabbè Ma guarda la produzione È spaziale Non riesco neanche a leggere quanto abbiamo Vabbè Credo tipo 3 milioni da spendere Ma guarda anche la produzione come è diventata Allora Upgrade Guarda in alto Guarda quanto siamo alti adesso con i muri E poi, ragazzi Guardate la produzione Perché, cioè Abbiamo dei muri per proteggere la produzione Davvero giganteschi Allora Guarda qua, eh Dimmi che hai mai visto una cosa del genere Fatta in un take one Allora, compro questo un attimino Ok Vabbè, tantissimo Guarda, eh Vado Pa, 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 pa Tanto siamo ricchi, ricchi, ricchi Oh, mio Dio Oh, quest'arma Oh, che bella Oh, mio Dio Questa è un AUG Se ricordo bene Esatto Perché io non la posso prender È stato bellissimo Dovevo farlo Ma cosa è stato bellissimo È stato bellissimo No, aspetta Fammi prendere tutte le armi Voglio tutte le armi Bello Mi piace come spalla Sono belle Sono proprio pistola Trampo Aspetta, ci metto una vita a tornare Oh, no Non ti dovevo uccidere Sono sponata all'inizio Perché È stata una pessima idea È stata una pessima idea Ti chiedo perdono Comunque dicevo che tra un po' Andiamo a fare guerra Perché siamo davvero super armati Il Consolino Mi ha ucciso per vendicarti Io non so se è buggato questo Tecun 150 milioni A quando li fanno troppo lenti A quando troppo veloci Vabbè, perché siamo nel futuro E adesso posso comprare I Tecun presenti hanno Dei soldi diversi Mi sembra giusto Mi sembra giusto Beh Scusa Consolino Ma mi stai ammazzando un po' troppe volte Arriva, arriva Mi sa che ti devo mitragliare Ti ho fatto prendere la mano con le armi Insomma Aprimi la porta Mi scusi Ci tengo a precisare Che a noi non piace fare della violenza sui Consolini Però Mi tocca mitragliarlo Ma vabbè Dove sei? Ma dai, è bello picchiare Dove sei Consolino? L'unica cosa bella è fare della violenza su di te Consolino? Dov'è? Non lo so È scappato È scappato È uscito dal server dopo avermi ucciso Oh, bello Guarda quanto è alto È altissima Vieni da questa parte adesso Se ogni tanto ti sparo un colpo Te ne sei accorto? Sì E mi hai rotto le scatole Sinceramente Oh, ma abbiamo anche un altro piano? Bello Oh, guarda No, guarda tutte le cose che ci sono qui sopra Fammi vedere Io non ero ancora arrivato Ma rimaniamo qua tutto il giorno Ma sono altre cose di produzione Ma cosa ce ne facciamo Dato che siamo ricchi? Non lascia Vabbè, tu prova a mettere Magari ci saranno Io sto comprando tutto Ci sarà anche qualche altro piano? Guarda com'è il shop Penso che sia molto focalizzato sul picchiarsi Perché vedo solo dropper e armi Sinceramente in questo take-un Sì, ma quanti milioni vogliamo fare? Ascolta Fammi capire, sì Ascolta, per quanti take-un ti sei lamentato Che la produzione era lenta Che dovevamo aspettare un sacco di tempo Mi ricordo Ti danno il take-un più veloce del mondo Non ti puoi lamentare adesso Non ti puoi lamentare Cioè, guarda Guarda anche qua E ancora Tutto Produzione Di dropper Sono riuscito A finire 150 milioni Di soldi Non mi era mai capitata Una cosa del genere Non li vedi questi dropper? Eh sì Mamma mia quanto sono grandi Faccio I colori Questo Questo Allora, devo per forza potenziare ancora i muri Perché stanno ancora cadendo le cose Ok, credo che così Mamma mia Non possano più cadere Ma è una super produzione Sto tempo Sei conto? Abbiamo? No Cinque Tu direi milioni Cinque Miliardi Mai visti in un take-un Almeno questo Mai visti No Bella No Bella questa Vieni qua Fai me la prendere Ok Guarda le pistole che belline rosse Guarda questa Bellissimo Ah, ok Vedi? Tu ti metti qua E spari agli altri Guarda Ah sì, agli altri Agli altri che però non vengono Siamo ricchissimi E non abbiamo nessun tipo di veicolo A piedi Ci sento talmente tanti dropper Perché non si vede nulla Vai, vai, vai Prendi tutti questi bottoni Sì, 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 sì Io bottoni verdi pensavo non li potessi prendere Sinceramente invece sì, sì, sì Invece posso Guarda che belle luci Guarda che belle luci Oh, finalmente riusciamo a vedere di nuovo Perché hanno messo un bottone da premere secondo te? Chi è che a questo punto vorrebbe premere ancora? Stanno cadendo blocchi delle produzioni di pieni di sopra Ma figurati se vuoi premere quel bottone Andiamo al secondo piano Allora, devi fare attenzione Perché caschi di sotto Devi passare da qui No, è questo il secondo piano Vieni Ah, ecco perché non lo trovo mai Vieni Ecco qua Vedi? Devi passare in mezzo Ma è difficilissimo Sì, salta, salta, salta Ecco, ci sei Perfetto Ok, compriamo tutto qua E poi torniamo al terzo piano Perché qua è davvero fastidioso Oh, finalmente un po' di luci E allora Vai, compra tutto Compro tutto Come se ce ne fosse bisogno Mai vista una cosa del genere Qua l'hai attivato, vedi? È una bolla che ti protegge Epico Non avevo mai visto una roba del genere Allora, puoi tornare dentro, grazie Abbiamo 8174 biliardi di miliardi di super miliardi Abbiamo totalmente finito il take one Non si capisce più nulla lì dentro Quindi evitiamo di farvi tornare dentro No, però abbiamo guardato tutto Ve lo assicuriamo è totalmente finito Dezoomolo e fallo vedere bene Ho già fatto, ho già fatto mia cara Bravo, 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 bravo Allora, sai cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo a picchiare Oh no Che è successo? Ci ho morta nella tua barriera Ah Giustamente non ci abbiamo pensato Va bene Va bene Allora Mi vedrai a me uccidere le persone Esatto, esatto, dai Tanto sono qui al centro Andiamo assieme Anche perché la bolla Non credo di poterla disattivare Questo, questo, questo Spi Poverino Ok, poi Andiamo a disturbare proprio a casa di qualcuno Vedi almeno un solo edificio decente? Ma sono usciti tutti Quello, l'arancione Però mi sa che è quello che abbiamo appena fatto fuori Sì Poverino E sì No, no, no Gli altri sono già usciti tutti Quindi non ha senso Andiamo, andiamo Proviamo, proviamo Dai, l'unico che vedo è il nostro Quindi andiamo Faccio la lucina Sì, è bellissima Le pistole Non le avevamo mai viste le pistole illuminate Apprezzo, apprezzo, apprezzo È una cosa molto originale Esatto Team Siamo carini e simpatici Così Non vogliamo provare le nostre armi su di te No, no Vogliamo fare pace e amore Ciao, bello Ehi, ciao Ciao Non si fida No, no Aspetta Apri, dai Ci hai ignorato Dai, dai, clicca Scusi Clicca lì E forse vede la tua faccia da mostro Ma è perché siamo ad Halloween Dai, lo capirà Vieni, dai, aprici E forza, su E aprici Non fare da cattivo Disgraziato Avevo detto di aprirci Non lo puoi uccidere Andiamo ad uccidere qualcun altro Andiamo È antipatico Più antipatico di noi che lo stiamo scocciando Sono molto arrabbiato Allora Vedo una signorina in lontananza Che non ha paura di vedere una persona armata Guarda, lei cammina tutta tranquilla È impavida, guardala È impavida Pensa a cosa mi succederà oggi Ecco cosa ti succederà oggi È fortissima questa arma Direi di fermarci così per questo video È stato molto particolare come te chiude Dai Molto strano Non mi è dispiaciuto, devo dire È stato diverso da solito Magari non il più bello che abbiamo fatto Però fare così tanti soldi È stato comunque divertente No, mi piace provare take-on diversi Da quelli a cui siamo abituati Quindi sì Direi che è stato figo È stato figo giocare soprattutto Fare tutti quei soldi E finirlo comunque abbastanza in fretta Mi è piaciuto E poi questa arma finale È davvero fantastica Esatto, esatto E con io con gli occhiali da sole Sono davvero meraviglioso Bene, grazie a tutti Se vi è piaciuto Ascettici un bel like E se è la prima volta che avete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao, ciao